Grazie a tutti, troppo sono arrivato alla fine perché ho avuto le confessioni, la mia forza, la penitenziaria, quindi ci è dispiaciuto non poter assistere alla vita alla fine, ma comunque spero che qualche tipo di ci sia, che lo sembra possa almeno vedere. Va bene, ringrazio il sindaco, ringrazio le associazioni, ringrazio tutto il paese, anche i genitori, soprattutto i ragazzi, prima di tutti i ragazzi, i bambini che si sono, vi siete impegnati, vi ho visti di giorno in giorno le prove che stavano, avete messo nel vostro, e quindi per rendere idonea, rendere anche il messaggio spirituale a questa rappresentazione. Poi do, innanzitutto, inizio a dare gli auguri di Buon Natale, un sereno anno 2011, è il nome del Signore, questo è il primo Natale che facciamo insieme, speriamo di un'altra serie, ma so, dipende, è stato di supportere più un po'. Poi ringrazio tutto lo staff, il senziale, chi ha diretto dai tecnici, anche la scenografia, a chi è stato responsabile del frutto, insomma. Grazie a tutti, e poi invito, adesso, alla fine, ci sarà un canto, un canto docente dalle stelle, in cui invito anche i genitori e i bambini ad associarsi al canto, un canto popolare, inventato da Sant'Alfonso, un canto di cuore, quindi ha 200 anni di storia. E quindi il canto è...